L'ambulatorio di neonatologia dell'ospedale di Chiavenna, rimasto sempre aperto durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria, da ieri è accessibile mediante prenotazione al CUP. Vorrei rassicurare le mamme, spiega la dottoressa Lorella Rossi, direttore del Dipartimento Materno-Infantile di ASST. All'ospedale di Chiavenna garantiamo tutti i servizi attivi prima dell'emergenza Covid. Da parte dell'azienda non vi è nessuna intenzione di modificare un assetto organizzativo che si è dimostrato in grado di rispondere alle richieste degli utenti. Una precisazione che fa chiarezza rispetto ad alcune informazioni sbagliate giunte alle mamme nei giorni scorsi. Il servizio pediatrico, peraltro a Chiavenna, è sempre rimasto attivo assicurando tutte le visite con accesso libero. Soltanto le attività ambulatoriali specialistiche erano state sospese, secondo quanto disposto dalla regione, ma dal 18 maggio sono riprese regolarmente quelle relative all'allergologia pediatrica e alla gastroenterologia, a cui si accede mediante prenotazione. Le visite neonatologiche sono riprese, ma su prenotazione, mentre per l'ambulatorio di pediatria generale, prosegue l'attività ad accesso libero dei pazienti con possibilità di concordare l'orario della visita, telefonando in anticipo anche il giorno stesso al pediatra di turno.